Si riapre per le altre forze politiche, per noi era già aperto, tutto era già molto chiaro, ora aspettiamo al Varco questi partiti perché dopo i nuovi tabulati telefonici devono davanti a tutti i cittadini dare nuovamente fiducia a questa persona, che lo facciano di nuovo, che lo facciano di nuovo.